la resistenza determina la temperatura tuttavia anche il bocchettone lo fa la temperatura dell'aria varia a seconda delle dimensioni del bocchettone più è stretto il bocchettone più la temperatura sarà alta extreme classic delicate elegant questi sono i quattro bocchettoni per dare diverse opzioni di styling per diverse tipologie di capelli extreme è il più stretto dei quattro bocchettoni ed indirizza un potente flusso d'aria concentrato in un piccolo spazio garantisce un'alta temperatura ideale per un capello grosso crespo e riccio classiche invece alta temperatura ma su una superficie maggiore la sua temperatura e la superficie che prende è ideale per i capelli lunghi ma abbiamo i parrucchieri hanno clienti con capelli delicati e danneggiati quindi abbiamo pensato al bocchettone delicate per un'asciugatura delicata la sua temperatura è perfetta per un capello sottile o danneggiato delicate è ottimale anche per i sensori barber infine elegant l'ultimo ma non il meno importante è un bocchettone molto largo che è ideale per le spazzo lunghe larghe tanto in voga infine excel include anche un diffusore per consentire un'asciugatura naturale che permette di dare volume al capello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti